Ciao ragazzi, un altro unboxing con la partnership di Japsen Ho comprato anche questo, vediamo, vi faccio vedere che gli articoli della Japsen, anche se sono con loro con la partnership, li compro ragazzi Perciò, Pan Watch, Pan 10, no Pan Watch scusate, Pan 10 Vediamo, è un Unlimited Tablet 4G Cioè, praticamente, è un tablet con la nuova tecnologia 4G Mettiamo subito da parte, per ora, il tablet Qua c'è il secondo vano, vediamo il vano sottostante al tablet Vediamo il sigillo di garanzia Cosa ci regala? Potremmo, quindi, c'è un caricabatterie con l'uscita da 2,3 Ampere C200 Output Questo Pare 5W C 2000 Mili Ampere 5W, la ricarica a 2000 Mili Ampere Questo è per mettere qualche ricarica, mouse, tastiera Questo è il CD Della manualistica Cioè, praticamente, scompare la manualistica in questo tablet, ma c'è il CD Cosa molto bella e molto utile Poi c'è il cavo standard micro USB Allora, vi consiglio vivamente di usare i cavi in dotazioni e i spinotti caricabattori originale Non vi andate a comprare altri caricabatterie Non usate altre caricabatterie Perché può rovinare il tutto Questo è il tablet, ragazzi L'ho acceso Poi vi vedete com'è Vi faccio vedere il mio codice per sicurezza E questo è il tablet Vediamo 10% se si sta scaricando Sfondo Jepsen Vi devo dire la verità Scusate se c'è la luce Vi devo dire la verità Che è abbastanza fluido e veloce Comunque Vi porterò la recensione Così Allora, io non vi ho potuto portare la recensione del mio telefono Beh, dai, guardatelo Il codice tanto che se ne frega Comunque Non vi ho portato alla recensione del telefono Perché aspettavo proprio il tablet Per vedere le differenze e il tutto Comunque ragazzi Proverò il tablet e vi farò sapere Comunque per ora Lo smartphone ha qualche problemino Ma va bene Alla fine Simpatico il display Sempre fluido Qualche problemino Ce l'ha Che vi dirò nella recensione Io vi saluto E ad un prossimo video Grazie Jepsen Per Per mi dato la possibilità Di recensire anche questo tuo tablet Io vi saluto ragazzi Al prossimo video Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti A presto Grazie a tutti Grazie.